il pallone dentro per cerbara vediamo se ci arriva cerbara il contatto con il portiere avversario c'è il calcio di rigore in favore della vissezza verticalizzazione di palluzzi per cerbara classico dei calci di rigore va onorato otto minuti e mezzo nel corso del primo tempo e il raso terra di edoardo onorato è vincente indicazioni da parte di davide mancone va palluzzi che ovviamente finta onorato pallone sul fondo ma fa passare palluzzi può scatenare la velocità inseguito da zatico che non lo tiene va palluzzi in area di rigore palluzzi c'è cerbara a centro palluzzi fa tutto da solo diego palluzzi e regala il raddoppio pallone direttamente verso la porta e grussu è costretto a metterla sul fondo con questo tentativo di mettere il pallone in mezzo la deviazione poi grussu paratona del portiere della vissezza e sull'intervento di caiola proprio l'ultima occasione pallone verso il centro e alla fine tofa un attimo prima del fischio finale mette in porta il punto del 2 a 1 dunque proprio al 95esimo il gaeda accorcia le distanze e 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